A facoltà di replicare la Presidente Anna Ascani. Grazie Presidente. Non possiamo essere soddisfatti perché la risposta alla nostra interrogazione non è arrivata. Anzi, oggi i lavoratori e le lavoratrici di Terni sanno che la risposta arriverà tra vent'anni, quando probabilmente quello di cui parla il Ministro si potrà eventualmente vedere. Però il problema è oggi e quello che succede all'Ast di Terni è il simbolo di cosa provoca l'inadeguatezza e l'inadempienza di questo Governo e di chi paga. Perché a pagare sono i lavoratori con la cassa integrazione e l'impresa. E la vicenda di Ast non è una vicenda locale, non è neppure una vicenda umbra, è una vicenda nazionale ed europea. Stiamo parlando di una produzione strategica per il nostro Paese, stiamo parlando di qualcosa che determinerà lo sviluppo dell'Italia nel prossimo futuro. E il Ministro viene qui a parlarci di un'ipotesi nucleare che forse tra vent'anni potrebbe mettere una toppa su un problema che se non risolto adesso provocherà disoccupazione, provocherà desertificazione in quel territorio e creerà un danno enorme allo sviluppo del nostro Paese. Ecco, noi continueremo a chiederle conto di questo. Come ha fatto l'azienda? Arvedi ha denunciato che c'è un problema sul costo dell'energia e la risposta è il silenzio suo. Della Presidente Donatella Tesei, che speriamo di poter mandare a casa a breve, se ci fate sapere la data delle elezioni magari diventa più semplice. E anche del Sindaco di quella città che purtroppo preferisce sputare in faccia i cittadini piuttosto che occuparsi delle priorità di quel territorio. Noi la pensiamo diversamente, continueremo a chiederle conto anche di quello di cui avete discusso oggi, perché caro Ministro è facile dirsi patrioti, ma quando c'è da difendere un sito strategico come quello di Terni bisogna dimostrare di esserlo patrioti. Per ora, alla prova del 9, siete semplicemente assenti. Grazie. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Barabò.